Salve, buongiorno, ho prenotato? Sì. Prego, si è qua, mi venga. Alex! Alex! Abbiamo un problema in cucina. Beh, che se ne occupi Paola, Ramiro. Appunto, questo è il problema. Mi scusa un momento, per favore. Pedro, occupati del signore. Salve. Salve. Ah, che non mi aveva prenotato? Pascal Sanchez, sono un po' in anticipo e spero che questo non sia un problema. No, non fa niente.